ciao a tutti e bentornati nel mio canale dunque oggi commentiamo insieme un try and all mega galattico il titolo del video è mega try and all vestiti indossati curvi in collaborazione con shane ma non indugiamo oltre e andiamo subito a vedere il primo articolo di questa lunga carrellata di articoli primo articolo consiste in un maxi maglione di colore chiaro ora la particolarità di questo maglione sono le maniche si presentano nella parte alta con una lavorazione a più trecce di varie dimensioni mentre la parte inferiore cioè quella del polsino è molto allungata e si ferma a metà avambraccio non perdiamo tempo e passiamo subito al secondo articolo rappresentato da una camicia stile figlia del corsaro innamorata ve la descrivo bene allora il fondo è ovviamente nero perché altrimenti il corsaro che cavolo c'entrava niente allora il fondo è nero però è tutta tempestata di cuori bianchi poi le maniche sono lunghe con un collo alla coreana però che presenta un delizioso piccolo volant sul davanti si chiude da due laccetti modello proprio corsaro ma quello originale e nella parte alta del seno c'è un volant un po più consistente che percorre tutta la camicia sia sul davanti che sul dietro cioè avete visualizzato la cosa sì adesso dimenticatela se no stanotte non si dorme terzo modello di questa carrellata shane allora un attimo io non sono sicura che siamo al terzo vabbè anche se fosse il quarto chi se ne frega tanto non è che ci cambia più di tanto quindi il prossimo modello della carrellata shane è rappresentato da una vestaglia da camera in simil raso nei toni del rosa pallido e di un rosa confetto ricorda molto uno dei modelli di victoria secrets andiamo subito a vedere il prossimo modello altrimenti questo vlog durerà 300 minuti e non mi sembra il caso allora il prossimo modello mamma mia bella io sto vedendo il video e commento in diretta e dunque riprendiamo un tono professionale e andiamo a descrivere questo ulteriore modello allora questa è una camicetta che mi ricorda tanto Lady Oscar e anche un po' qualcuno dei moschettieri qualcuno potrebbe dire come mai perché è perché ora state buoni che ve la racconto allora il colore è un rosa pallido in raso lucido e si presenta in questo modo le mani che sono lunghe ed arricciate ai polsini con un effetto volant il collo della camicetta si presenta alla coreana allacciata da un grosso fiocco nella stessa stoffa della camicetta però la particolarità della camicetta non è tanto questo fiocchettone che si propone sul davanti bensì queste due grosse balze della stessa stoffa della camicia che si vanno a sovrapporre sulle spalle fino a metà seno però poi sono magicamente unite a modi volant che si fermano all'altezza dell'ombelico cioè raga è difficile la dovreste vedere quindi salutiamo Oscar Francois e andiamo avanti con il prossimo modello che ahimè è un'altra camicetta stile 700 maniche lunghe di colore bianco con la bottonatura centrale sul davanti la linea è dritta e mi pare che stringa un po' sul seno e all'altezza delle braccia però la particolarità di questa camicia è il fatto di avere un collo abbastanza importante ora per farvi capire bene le dimensioni di questo collo vi dirò che parte dalla base del collo di Chiara arriva a percorrere tutta la spalla si ferma all'altezza del seno c'è praticamente un bel po' di stoffa per fare questo collo prossimo articolo di questa meravigliosa carrellata di modelli firmati Shane è rappresentato da un paio di jeans elasticizzati a vita alta con tanto di quattro bottoncini in vita e sono di un colore blu denim scoloriti sulla parte centrale della gamba e sul ginocchio cioè tipo sapete quando uno cade con le ginocchia per te è Chiara prova anche a collaudare l'elasticità di questi jeans alzando una volta la gambetta sinistra e una volta la gambetta destra ok la prova è riuscita quindi felici per la riuscita della prova elasticità dei jeans passiamo subito al prossimo articolo rappresentato da una mistica, una mitica, una chena camicetta di colore rosso fuoco con una fantasia di piccoli cuoricini neri che vanno a costellare tutto il davanti e tutto il dietro sì anche le maniche la linea è dritta ed il colletto è regolare la particolarità di questa camicetta sta nel fatto che è estremamente lunga praticamente arriva quasi al polpaccio bene direi che stiamo andando più che bene allora prossimo articolo un'altra camicetta però questa volta è una camicetta molto particolare in quanto si presenta in un tessuto di wall con dei piccoli rigami tono su tono e c'è bianco però però sul davanti riporta un grosso fiocco nero a contrasto tipo se avete primo giorno di scuola con quei bei fiocchi tutti inamidati così però vabbè le maniche sono a sbuffo vaporose i polsini sono rifiniti con un elastico che tende a creare un piccolo volant che va a ricoprire il dorso della mano oddio ora che lo vedo bene direi che questa camicetta ha il suo perché ora non per rattristarvi ma siamo quasi sul finire di questa meravigliosa carrellata di articoli vi ricordo firmati Shane questo è un articolo molto difficile da descrivere ma ce la metterò tutta allora è una tuta jumpsuit caratterizzata da una parte sopra abbastanza lunga che arriva quasi alla caviglia è in un modello simil giacca però è morbida è di colore rosa cipria e la parte sottostante è caratterizzata da pantaloni palazzo cioè quelli larghi dai fianchi alla caviglia nella stessa misura cioè tenete presente? sì? avete presente questa cosa qui? lo so è difficile ve l'avevo già detto ve l'avevo fatto una premessa con questo complicatissimo modello da descrivere la nostra Chiara ci saluta anzi no prima di salutare si ricambia mette un'altra volta quella camicia col fiocchettone nero stile primo giorno di scuola saluta la sua utenza e come già sapete quando finisce il video di Chiara finisce anche il mio quindi io vi auguro buona continuazione di giornata o di serata a seconda di quando ascolterete e guarderete questo video vi do appuntamento al prossimo contenuto un bacio a tutti da Gossip